...dai così tromba perché non si può! Mi disse questa frase Moreno sentì buttami i giornali BAM! Lo vede da dietro BAM! Una rissa proprio alla West Tutti palle! Gli arrivo! Palle, pallini, quei che ce n'è, sticinavano, totte, stecche... Allora uno o uno ciccio che c'era uno o uno, un amico su, dice Ciccio, diamo i 113! Se non ci si ammazza! Si ammazzano! Ciccio entra dentro la camina del telefono Dopo 10 sei un disorso e fa Che numero si fa perché non hai 113? Gravolosa con la risposta di Moreno! Ho capito che tu sei mandato nell'eleccolo! Si ammazzare un cibo perso alla CIN di 113 Ho guardato un servizio importante e se non lo metta nell'eleccolo Alla CIN di 113 su 100! 131 cibo perso trovato! Vedi che Europa è l'altro modo! Direi che li facciamo all'amore! Si ammazzare un ammazzare un ammazzare un ammazzare!